...della nostra zona, che è un intenso che vorrei rivolgere alle autorità, soprattutto sui civili, per i militari no, che non entrono in questo caso, ma all'associazione di volontari al progetto di parte. E quindi senza alcuna pretesa, che indormente viene a questioni tecniche e ancora meno per le politiche, sento l'ugente da intervenire sul problema del futuro del proprio sofforso di Prodichera. Poi, conoscendo positivo lo sforzo di una maggiore società nella spesa pubblica, occorre non dimenticare i bisogni delle persone che vivono in un territorio, le cui caratteristiche morfologiche e diatiche rendono particolarmente difficile la mobilità. Nel tempo delle qualsiasi decisioni, credo che sia fondamentale, in medesimarsi, nella soffreggio del mare, che non l'altro spera che di poter ricevere le dovute due con massima tempestabilità. Coscienza e potenza devono fin essere i principi ispiratori di ogni futura decisione, ancor prima delle motivazioni economiche. La politica dovrebbe essere molto chiara nei confronti dei cittadini. Che cosa significa? Domando anche io, di persona. La trasformazione di un pronto soccorso di un pronto soccorso in un punto di primo soccorso. Apparentemente nulla, ma in realtà potrebbe determinare un indebolimento dell'offerta saltaria. Da semplice cittadino di sembra di poter affermare che un pronto soccorso dovrebbe essere dotato di un personale di uterimianistico, etc., capace di poter far fronte all'emergenza. Se questo non potesse essere garantito, l'ideale sarebbe quello di un potenziamento del servizio territoriale, che con mezzi e personali nomi appoggino il paziente stabilizzato al pronto soccorso di competenza, che è in grado di far fronte all'incospecita e all'incospecita. Il soccorso sanitario che vogliamo avere fondamentale per la nostra società trova, lo state bene, provo a riscaldarsi profonde nella carità evangelica della Chiesa, che, non va dimenticato, ha dato ogni linea delle prime strutture ospedaliere della storia. Ogni persona ha il diritto umano di poter accedere senza dispare al ruove medie e far sì che anche gli istanti possano essere tempestivamente, senza fare poter produrre, e alleattamente s'accorsi in devolire questa struttura e un rischio per il futuro in questi modi di confine a ognuno il proprio corpo. A noi non crede che apportare le conseguenze di soluzioni inadeguate non siano più bisognosi interventi tratti e efficaci. Forse non sarebbe più opportuno, pensate anche a questo, fa la stessa cosa, l'abbiamo mandato in ladino a leggere qualche cosa capita anche con questa espressione, la questione molto scontante della viabilità della nostra zona, che nei casi di vera c'è la propria consenza assumita la soluzione del problema. Questo è il lavoro che vi ho detto che dovrebbe trovare san padre su avvenire il nostro bel giornale, che oggi dedica tutta quanta una pagina alla nostra giornata e che merita davvero non solo essere preso oggi, ci sono le fotografie, c'è la fotografia del festeggiato, ma ci sono anche i vestiti che con cuore, con gli occhi di loro, o ricordo alla popolazione e l'intercessione del nostro santo. Grazie.